buongiorno a tutti benvenuti a questo secondo appuntamento del progetto prequel e io sono barbara usberti dell'ufficio europa della provincia di parma e vi dirò appunto alcune cose prima di iniziare questa giornata di formazione allora innanzitutto il progetto prequel quindi progettare un'europa più equa capacity building e strumenti per enti locali è un progetto che è stato realizzato grazie al contributo della regione emilia romagna che appunto con la legge 16 del 2008 sostiene le i progetti e le attività a favore della per la promozione della cittadinanza europea e in questo caso specifico anche per la il rafforzamento istituzionale delle dei comuni e rafforzamento della capacity building dei funzionari e questo progetto è nato dalla collaborazione di più settori della provincia è nato quindi dalla collaborazione dell'ufficio personale pari opportunità quindi il comitato unico di garanzia e l'ufficio europa questo progetto inoltre è nato dalle da un confronto preliminare che è stato svolto con diversi comuni del territorio infatti sia come pari opportunità che come ufficio europa abbiamo proprio l'obiettivo di relazionarci con gli uffici dei comuni del territorio per individuare delle esigenze comune e anche delle necessità di formazione e di sviluppo di progetti che mettono insieme più enti per avere anche un impatto maggiore e quindi compiendo queste attività questi tavoli di lavoro con i comuni è emersa l'interesse di varie realtà a realizzare progetti per diffondere la cultura di genere e allo stesso tempo è emersa anche la necessità di formazione per quel che riguarda le opportunità eh sia regionali ma anche nazionali e anche europee e eh la necessità di avere acquisire maggiori competenze sulla progettazione quindi da tutti questi input che ci sono arrivati dagli enti ehm è nato un po' questo questo progetto ehm siamo al secondo appuntamento il primo si è svolto la settimana precedente il ventisei ottobre e ha fatto un po' una carrellata sull'opportunità di finanziamento che la regione e l'Unione Europea offrono per l'uguaglianza di genere oggi parleremo appunto di raccolta e analisi di dati disaggregati di genere si concluderà il ventitré novembre con una lezione più di metodo quindi come integrare la prospettiva di genere nelle varie fasi di eh dei progetti quindi dall'identificazione di proposte progettuali fino allo sviluppo all'attuazione di di progetti proprio per essere certi che in ogni fase si rispetti la parità di genere a rispetto di tutta la comunità e poi si concluderà questo percorso il dodici dicembre il dodici dicembre sarà un appuntamento dedicato alla costruzione di una rete di CUC eh per la proposta di nuove idee progettuali proprio perché ci piacerebbe la nostra ambizione è che alla fine di questo percorso di formazione ehm appunto all'opportunità di vari enti eh partecipanti che hanno modo di di confrontarsi e di parlare eh ci piacerebbe appunto che si arrivasse a una vera e propria idea progettuale da candidare il prossimo anno su una call europea o comunque su un bando regionale quindi questo sarebbe un insomma un obiettivo importante costituirebbe un follow up del progetto che tutti ci ci auguriamo e direi che possiamo passare adesso la parola a Gineva Roli del CERN che adesso si presenterà ma appunto collabora con noi per eh l'attuazione e lo sviluppo di questo progetto. Grazie a tutti e buon incontro. Grazie mille Barbara. Sì penso che buongiorno a tutti. Allora una prima presentazione sul eh sul progetto e su perché siamo qui eh appunto eh già stata fatta e e sulla giornata che ci aspetta. Ehm volevo spendere qualche parola in più rispetto al fatto che allora innanzitutto prima metto dicendo che l'abbiamo pensato come un percorso di formazione che si poteva prendere anche a piccole dosi nel senso non complessivamente come un percorso unico e quindi vi chiedo scusa se in alcuni casi solo all'inizio ripeterò alcune cose che chi era presente già la scorsa volta ha già sentito come la mia presentazione della mia organizzazione o brevemente alcuni altri elementi però vi prometto che sarò molto più breve della scorsa volta. Dunque io sono appunto Gineva Roli project officer e lavoro presso la rete CERN Sweden Emilia Romagna Netto. Eh siamo una rete trasnazionale che unisce membri italiani e svetlisi. Siamo eh siamo nati nel duemila e cinque e abbiamo attualmente sessanta membri e eh collaboriamo con la provincia di Parma dal duemila e sei in quanto eh dal duemila e sei la provincia di Parma è il nostro membro. Abbiamo una lunga lunga esperienza di collaborazione sia più in generale che in provincia e è questo che eh che appunto e durante tutto questo percorso affiancieremo la provincia in nel nel cercare di darvi strumenti e eh nel capacity building che vogliamo offrire attraverso questo percorso. Eh qui ho semplicemente detto perché la rete CERN perché esiste? Cosa vogliamo fare? Qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo bello e ambizioso è quello di costruire l'Unione Europea attraverso le nostre attività perché alla fine eh pensiamo che l'Unione Europea si è anche un po' fatta di incontri, scambi, esperienze, momenti più formali, più ufficiali ma momenti anche informali di dialogo, di 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 conoscenza, di approfondimento e noi lo facciamo in momenti dedicati eh con i nostri membri che sono sia momenti istituzionali quando la rete ha appunto i suoi incontri come i consigli direttivi e la Sulea ma anche momenti soprattutto eh quando lavoriamo eh nei progetti. Ok? Diciamo che la maggior parte del nostro lavoro è proprio sviluppare idee progettuali ed è qui che noi eh diamo una mano in questo percorso formativo proprio per tutto quello che è il lo sviluppo di idee, la scrittura di progetti, finanziamenti europei. Eh noi lavoriamo moltissimo nello sviluppare e poi implementare, supportare nell'implementazione con i nostri membri ehm con progetti di di tipi differenti ehm che possono essere su aree molto ampie quindi vi cito rapidamente comunità inclusive in cui rientra diciamo anche un po' la parte di eh genere e di ugualizzanza di genere soprattutto lavoriamo nel settore dell'educazione eh comunità digitalizzata ehm eh tutto l'aspetto del green comunità verdi e sostenibili. Beh non potevo non citare il fatto che siamo 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 soprattutto enti i nostri membri sono soprattutto enti locali ma mi piaceva citare insomma il numero di di enti e membri che abbiamo nel provincia di Pomo perché sono molti oltre appunto la provincia abbiamo il comune di Pomo più altri quattro comuni Pellegrino Parmense, Noceto, Borgo Val di Taro, Albaretto, I Parchi del Ducato, poi abbiamo due unioni Val di Taro Cene e Unione Pedimentale. Också eh flera stycken, alltså fem stycken, e comunförbund där flera mindre comuner. Orgo ti ho. So vi finnes tu. Her. Romagnoli e anche abbiamo qua e la qualche membro di fuori di regione proprio perché diciamo che praticamente lavoriamo a livello di regione ma anche fuori. Arriviamo ora alla parte del clou del seminario di oggi e indicativamente vorrei farmi una rapida presentazione del quadro di riferimento del progetto PRIME perché lavoriamo sulla l'uguaglianza di genere e sulla parità. Poi passeremo a parlare di dati disaggregati per sesso genere e statistiche di genere. Quali sono e perché contano? Vi farò una breve panoramica spiegandovi un pochettino i termini e a cosa si riferiscono. Poi passeremo invece a una parte più in cui saranno i nostri colleghi e membri svedesi che ci racconteranno come lavorano nella loro quotidianità nel raccogliere dati statistici. Quindi ci presenteranno un po' la loro buona pratica, la loro esperienza quotidiana che ci servono anche per un confronto per capire cosa facciamo di simile, cosa facciamo di diverso, cosa possiamo migliorare. E avremo Osa Edberg che è coordinatrice della unità sulla sostenibilità sociale della county di Ostra Gottman e Elena Etta che è responsabile dello sviluppo e docente senior della scuola quindi ambito e settore scolastico del comune di Luleo. Alla fine ci piacerebbe lasciare la parola alla dottoressa Vezzani che è consigliera della Parità Provincia di Baccia per darci alcuni spunti sulla medicina di genere in Italia e come anche qui sia un settore in cui è stato essenziale lavorare per dati statistici e raccogliere le informazioni suddivise per genere. Partiamo dal nostro cappello introduttivo perché lavoriamo sul tema del genere, per molti motivi, siamo molto grati alla Provincia di Palma che ci permette appunto di sviluppare questo percorso che accresce la consapevolezza, che vuole darsi strumenti, che insomma spero che vi lasci qualcosa di buono e utile, ma lavoriamo sulla parità di genere perché sappiamo che è necessario che ci si focalizzi sempre di più su questo aspetto. Partendo a livello globale noi sappiamo che la parità di genere è uno degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, quindi l'Assemblea delle Nazioni Unite l'ha incluso tra i suoi 17 e noi effettivamente vogliamo lavorare, tutti noi dobbiamo lavorare in questo senso perché se non garantiamo l'uguaglianza di genere stiamo togliendo dalla società una fetta importante, cioè discriminiamo una fetta importante della società, la mettiamo di lato, quindi ma oltre ad essere un problema di discriminazione di diritti umani sprechiamo un potenziale umano importante perché chissà quante scienziate, studiose, ricercatrici, imprenditrici potremmo avere tra le donne che invece non riescono ad accedere ai vertici o non riescono o per tanti fattori e pregiudizi non riescono a arrivare dove dovrebbero essere. Mi piacerebbe poi spendere solo qualche parola sulla strategia europea per la qualità di genere, abbiamo fatto come riferimento gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, scendiamo a livello europeo, strategia europea per la qualità di genere 2025, presenta tutta la serie di obiettivi strategici e azioni che volte a compiere progressi significativi nel 2025 per garantire la parità di genere e noi in Italia ne abbiamo sicuramente bisogno di essere, di seguire quelle che sono queste indicazioni e queste strategie. Come vedete sono elencati gli obiettivi principali per cui porre fine alla violenza di genere, combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, far fronte al problema del divario retributivo e pensionistico tra uomini e donne, colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale e nella politica, inserendo la dimensione di genere in tutti gli aspetti e in tutte le politiche e anche focalizzandosi molto su principio trasversale dell'intersectoriale. per citare anche a livello di riferimenti regionali abbiamo voluto includere anche il patto per il lavoro e per il clima che è un patto sottoscritto tra molti enti dalla regione Emilia-Romagna assieme a molti enti come enti locali, sindacati, imprese, scuole, associazioni eccetera eccetera e che è un patto che principalmente è incentrato sul lavoro e sul clima, sullo sviluppo dell'Emilia-Romagna e della regione ma anche con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, cui si parla appunto di decarbonizzazione e di energie rinnovabili eccetera eccetera, che l'ho citato perché comunque ha un ruolo cruciale nella promozione e nell'uguaglianza di genere delle pare opportunità all'interno della regione, stabilisce impegni e responsabilità condivise e una serie di azioni che sono da svolgere, cioè da mettere in atto per garantire, assicurare la parità come lavorare sulla formazione e istruzione, supportare maggiormente l'imprenditoria femminile, le politiche di inclusione, la salaria, le promozioni di modelli di lavoro flessibile, ricerca e innovazione e incentivi per aziende sostenibili. Arriviamo ora al cuore della nostra giornata. Dunque, il nostro incontro di oggi è dedicato ai dati, alla raccolta di dati, tutto quello che è raccolta di dati disaggregati per genere, per sesso, a indicatori di genere e statistiche di genere. Quindi parleremo di tutti questi aspetti, spero soprattutto con i nostri colleghi svedesi. Abbiamo voluto dedicare un intenso appuntamento a questo aspetto dei dati, della raccolta dei dati e delle statistiche, che sono così importanti, le statistiche di genere. Innanzitutto, spero che arrivi il messaggio a fine di questo incontro, che le statistiche e gli indicatori di genere non sono semplicemente le statistiche di donne che riportano dati di donne, ma sono degli strumenti essenziali per contribuire a ridurre le disuguaglianze di genere, perché forniscono delle basi tangibili, delle prove tangibili che rendono più visibili le disuguaglianze di genere laddove sono e con la loro entità, la reale entità che hanno. Quindi è uno strumento che garantisce che la situazione delle donne degli uomini nella società siano misurati correttamente, siano fotografati, identificati e valutati equamente. Questo è un aspetto essenziale perché abbiamo, da dove sentiamo dalla strategia europea, ma lo sappiamo anche a livello italiano, sentiamo sempre di più parlare di integrare la prospettiva di genere in tutti gli aspetti della vita della comunità. questo rappresenta un modo, il primo step, la raccolta di dati, l'analisi di questi dati, la formulazione di statistiche di genere, ci permettono davvero di integrare la prospettiva di genere in ogni aspetto, perché queste statistiche si possono fare per ogni tipo di settore, quindi può essere i trasporti, può essere la scuola, può essere la medicina, ogni aspetto può avere una propria, ogni settore può essere analizzato utilizzando dati statistici e utilizzando, raccogliendo dati specifici di genere. Statistiche di genere, ribadisco quindi perché volevo proprio che fosse un po' chiaro il concetto di cosa sono, le statistiche di genere riflettono quindi adeguatamente le differenze e le disuguaglianze nella situazione delle donne e degli uomini in tutti i settori. Su cosa si basano? Si basano su come si è arriva ad avere una statistica di genere, sono necessari dei dati raccolti e presentati disaggregati per sesso, poi devono naturalmente tenere in conto le questioni di genere, le problematiche di genere, questi dati che sono raccolti. I dati sono poi basati su concetti e definizioni che riflettono sicuramente la diversità di uomini e ne catturano tutti gli aspetti della vita. Cosa vuol dire? Che quindi sono dati che sono raccolti tenendo in considerazione non solo il sesso, ma molteplici altri fattori, quale l'età, il livello scolastico, la disabilità, l'appartenenza etnica, appunto l'essere straniero, l'essere italiano, tutta una serie di aspetti che vanno, su cui è fondamentale la presenza dei dati raccolti per sesso, ma su quali poi si aumentano altre informazioni, si aggiungono altre informazioni. Inoltre i metodi di raccolti dai dati devono tener conto degli stereotipi, dei fattori sociali e culturali che possono indurre pregiudizi di genere. Cioè vuol dire che anche il metodo di raccolta deve essere pensato adeguatamente, perché soprattutto se il metodo di raccolta di questi dati è tramite intervista, la persona stessa può, attraverso le proprie parole, trasferire, trasmettere, veicolare dei pregiudizi. Quindi anche questa attenzione è tutta un'attenzione alla questione di genere che viene fatta a 360 gradi. Quindi la stessa, la raccolta, il metodo di raccolta non deve contenere, il linguaggio non deve contenere dei pregiudizi anche che involontariamente veicoliamo, la persona non deve influenzare la risposta dell'intervistato e così via. A questo punto abbiamo parlato quindi di statistiche di G e di dati disaggregati. Volevo che fosse chiara la distinzione. Allora abbiamo dati disaggregati per G e dati disaggregati per Sesto. Dati disaggregati per G sono informazioni numeriche, non numeriche, possono essere dati quantitativi e qualitativi che sono raccolte attraverso più fonti, sono suddivisi per categorie specifiche che riflettono genere e intrinsecanti. Quindi sono una serie di dati che appunto non contengono solamente una serie di fattori, quali appunto età, gen, età, disabilità, nazionalità, eccetera, background di ognuno, non devono includere i dati disaggregati per Sesto. Quindi quale è la differenza tra i dati disaggregati per G e per Sesto? Diciamo che i dati disaggregati bisogna essere il contenitore più ampio, all'interno di quale non possono mancare dati disaggregati per Sesto, ma che non si limitano a questo. L'elemento fondamentale dei dati disaggregati per Sesto è che i disaggregati in base a Sesto sono uno dei requisiti per ottenere le statistiche di genere. Sono essenziali, l'abbiamo visto prima. La prima cosa per una statistica di genere è che si può farla formulare sulla base di dati disaggregati per Sesso, che sono raccolti catalogandosi apparattamente uomini e donne, che sono gli dati disaggregati per Sesso, quelli che permettono di misurare realmente le differenze tra uomini e donne, anche qui in varie dimensioni sociali ed economiche. Quindi ribadendo, le statistiche di genere sono basate sui dati disaggregati per Sesso, che si riferiscono alla raccolta di dati e alla loro divisione separatamente per uomini e donne, ma le statistiche di genere vanno oltre i semplici dati, perché la statistica di genere tiene in conto, in considerazione, aspetti molto più ampi e vengono in conto, come dicevo prima, aspetti intrinseci come l'età, l'istruzione, la composizione familiare, eccetera, eccetera. Per arrivare a dire cosa ci serve quando noi analizziamo un problema, quale dovrebbe essere il processo? Perché questi dati dovrebbero servirci? Perché l'analisi, la statistica di genere dovrebbe essere fatta? Dovremmo partire da un problema che si identifica in qualsiasi settore e ambito. Dopodiché si procede alla raccolta di dati, dati che possono, che dovrebbero essere disaggregati per Sesso e anche per Genere, quindi dovremmo riuscire ad avere dei dati che ci forniscono una chiara visione e immagine di quello che è il problema, e una chiara evidenza di dove si trovano le disuguaglianze. Da questi dati si dovrebbero poter sviluppare delle statistiche di Gen, produrre evidenze delle differenze e anche analizzare la problematica. Lo step successivo sarebbe quello che attraverso queste statistiche progetti si possano mettere in atto i decisori politici, riescano ad avere in mano queste informazioni e possano definire azioni e piani per risolvere il problema. In un specifico intendo che stiamo parlando di essere qualunque problema, come ad esempio in qualunque settore, come ad esempio i trasporti, e mentre si cerca ad esempio di promuovere il trasporto pubblico, si dovrebbero avere anche in mano una serie di dati e di statistiche di genere che ci permettono di capire, per esempio, chi utilizza maggiormente il trasporto pubblico tra uomo e donna. E nel momento in cui si fanno dei piani e delle azioni, si dovrebbe andare a lavorare a seconda del genere per fare in modo che si producano obiettivi più efficaci, che si raggiungano più efficacemente gli obiettivi e che raggiungere gli obiettivi su un tema generico come può essere generale, come può essere il trasporto pubblico, si riducano anche le disuguaglianze di genere. Quindi questa è l'essenziale, lavorare sui dati, sulle statistiche, su tutta una serie di informazioni che ci fotografano la realtà e andare poi ad utilizzare questi dati in qualsiasi ambito e settore per sì risolvere il problema del settore specifico, ma anche per ridurre le disuguaglianze. Perché se non facciamo in questo modo, le disuguaglianze continueranno, e non le prendiamo in considerazione in questo modo, le disuguaglianze continueranno a essere evidenti e visibili. Mi fermo qui. Interrompo la condivisione. Vedo che c'è Osa. Hello. Welcome. Allora, vi lascio, per chi non avesse seguito chi è entrato dopo, vi lascio con Osa Eddi, che è coordinatrice dell'Unità Sostenibilità Sociale dell'Account di Ostrogothen. Non so se devo specificare, ma ci sarà l'interpretariato italiano-svedese, quindi se vedete in basso c'è un pallino appunto con il simbolo del Mond, scegliete e rimanete sulla lingua italiana per poter ascoltare l'interpretariato nella nostra Lara, che ci permetterà così di avere la traduzione simultanea. Lara, e Osa, ok? Ja. Mi lascio la parola. Bene. Allora, inizio. Vi farò vedere qualche immagine con dei testi che sono partialmente in inglese, parzialmente in svedese. Se c'è qualcosa che non è chiaro vorrei che mi interrompeste. E adesso vediamo se riesco a condividere lo schermo. Allora, lo vedete? Vedete lo schermo? Benissimo. Benissimo. Ginevra mi ha chiesto di venire qui e parlare un po' di come usiamo noi i dati. Io lavoro per il consiglio amministrativo della Contea o regionale, ce ne sono 21 in Svezia, praticamente nel nostro lavoro che ci viene assegnato dallo Stato, noi dobbiamo creare statistica e dobbiamo anche informare sempre della differenza tra uomini e donne. Quindi, io mi chiamo Osa Hedberg, lavoro come coordinatrice per il consiglio quindi della Contea di Oster Jotland. e nella mia unità, che si chiama Unità per Sostenibilità Sociale, abbiamo dei compiti che ci vengono dati dallo Stato e quello che faccio io è cercare di promuovere una buona salute e prevenire uno sviluppo sociale negativo. Lavoriamo sulla violenza domestica, la violenza contro le donne collegate alla mancanza di integrazione. Lavoriamo per prevenire crimini, lavoriamo per sostenere genitori nella loro relazione con i bambini, quindi praticamente tutto quello che è collegato, che c'è all'interno del sostegno alla persona e sostenibilità sociale. La regione si trova circa due ore a sud di Stoccolma, abbiamo 460.000 abitanti, 13 comuni e ci sono in questa zona due città grandi che si chiamano Linköping e Nord Shopping. Linköping è la quinta città in misura in grandezza, diciamo, della Svezia. Noi dobbiamo sempre cercare di migliorare il nostro lavoro nel senso del lavoro come viene collegato ai dati. La situazione in Svezia adesso e credo anche in tanti altri paesi è che le nostre risorse diminuiscono, diventiamo sempre di più, cioè più persone, abbiamo tanti anziani e dobbiamo cercare di prioritare ciò con cui lavoriamo e per fare questo abbiamo bisogno di dati. Perché fare la stessa cosa è importante per fare in modo che tutti abbiano le stesse possibilità. Quello che possiamo vedere in questa immagine sono quattro persone che devono vedere una partita. Tutte le persone hanno avuto lo stesso tipo di sostegno. Però quello che è importante nell'immagine in mezzo è cercare di dare il sostegno giusto alla singola persona. Perché in questo modo più persone possono in questo caso vedere la partita di calcio. E nell'immagine a destra possiamo vedere che se noi togliamo gli ostacoli allora tutti possono avere accesso. Quindi noi dobbiamo concentrarci su chi ha bisogno di più aiuto. Perché dobbiamo fare agire in modo diverso perché tutti possano avere la stessa possibilità. E come si fa? Beh, si può parlare con le persone, si può chiedere come vogliono lavorare e come vogliono fare per raggiungere il loro obiettivo diciamo in generale. Però a parte parlare possiamo anche creare sondaggi. Però tante persone non vogliono partecipare ai sondaggi perché è difficile anche sempre rispondere alle domande. Abbiamo comunque un sondaggio che è stato iniziato nel 2006 e viene fatto ogni anno e viene gestito dalla regione, dalla regione Österreichland, che è diciamo l'ente che si occupa della sanità e dei trasporti pubblici. Questo sondaggio viene creato in collaborazione con i giovani. Abbiamo creato dei gruppi dove ci si concentra sulla creazione delle domande, cioè chiediamo a questi giovani quali sono le domande che dovremmo porre per cercare di capire com'è la situazione. In questi dati che raccogliamo cerchiamo di dividere le informazioni che riguardano le femmine e i maschi. Ovviamente dipende quante persone partecipano, però a livello della regione abbiamo anche la possibilità di analizzare le risposte che arrivano da chi non si vede come maschio o femmina, quindi altro genere. Quindi la prima parola scegli è una giovane femmina, è una giovane femmina, kille è giovane maschio, ak è altro genere. Quindi la prima domanda riguarda, le prime diciamo domande riguardavano la sicurezza. Come ti senti? Se ti senti al sicuro. Grundschule è la scuola dell'obbligo dalla prima alla sesta classe, dalla prima alla nona classe scusate e potete vedere che il 99% dei maschi si sentono sicuri e invece le femmine sono di meno. Se guardiamo la scuola superiore si vede anche la percentuale tra femmine, scei e maschi. Se si sentono sicuri a casa sulla sinistra o a scuola sulla destra. Questo è praticamente la prima fila in alto è quello che riguarda la regione e invece i dati che sono in basso è quello che, scusate, in alto è quello del comune, in basso è quello della regione. E se vedete in basso il gruppo che si considera altro genere è il gruppo che si sente meno sicuro in assoluto a scuola. qui vediamo giovani che sempre o spesso sentono di essere sufficienti, di bastare come sono. Qui avete sulla sinistra in alto i quattro anni vecchi, diciamo dal 2016 al 2019, però si vede che le ragazze, scei, si sentono meno sufficienti, mentre i maschi si sentono più sufficienti, cioè come se bastassero come persona. Se guardiamo invece la regione, quindi l'immagine in basso, la metà delle femmine non si sentono sufficienti, mentre circa l'80% dei maschi si, però anche tra i maschi il 20% non si sentono sufficienti. Se guardiamo altri generi vediamo che si sentono meno bene rispetto ai maschi. Se non facessimo questa divisione tra maschi e femmine avremmo una media più alta e non vedremmo che effettivamente ci sono delle cose che sono più difficili per le femmine rispetto ai ragazzi. E quindi con questa divisione di dati possiamo cercare di capire che cosa ti fa sentire meno soddisfatta e possiamo anche trasferire questi dati alla politica e i politici possono prendere decisioni che facilitano la vita per chi trova la vita più difficile. Qui abbiamo delle età dei ragazzi più piccoli, diciamo dalla prima classe alla nona, quindi fino alla fine delle medie. E a livello generale, questo è per esempio l'utilizzo del tabacco e vediamo che i ragazzi che non si considerano le maschine femmine utilizzano il tabacco molto di più. Questo è diciamo un segnale del fatto di non sentirsi bene. In Svezia abbiamo un tabacco che si chiama snus che si mette sotto al labbro e questi dati, l'immagine sopra, mostrano che sono molti più maschi che utilizzano questo tabacco. Quella parte grigia, diciamo. Se avessi a disposizione i dati degli ultimi due anni, potrei far vedere che anche le femmine hanno aumentato il loro utilizzo di tabacco, quello che si mette sotto al labbro, perché hanno fatto delle pubblicità molto intense e quindi questo ovviamente ha influenzato l'utilizzo anche tra i ragazzi giovani. Qua si guarda la quantità di alcol che viene bevuto. Qui abbiamo i ragazzi fino alla fine delle medie. Vediamo che ci sono tante più ragazze che bevono di più. E qui, avendo questi dati, possiamo lavorare con le femmine e i genitori di queste femmine per dargli sostegno in modo che non bevano così tanti alcolici. E ovviamente anche qua sotto si vede l'immagine anche di chi non si considera maschio o femmina. Di solito spesso si pensa che chi beve tanto e chi utilizza l'alcol tanto sia meno tranquillo, meno sicuro, abbia più difficoltà nella vita. Qui invece, questa immagine qua, riguarda a chi ha ricevuto dei commenti cattivi oppure chi è soggetto a video o immagini che sono state messe sui social media. E qui si vede ovviamente che le femmine sono state più soggetto a questo tipo di negatività rispetto ai maschi. E spesso fino alla fine delle medie. E se noi non abbiamo questa suddivisione tra maschi e femmine, non possiamo indirizzare il sostegno ai gruppi specifici che lo necessitano. Abbiamo anche un esempio di un altro tipo di analisi. Il nostro istituto per la ricerca sulle strade e sui veicoli ha fatto un'analisi, un sondaggio, dove abbiamo cercato di capire attraverso uno strumento per vedere, di analizzare, a parte il sesso, anche l'età, origine etnica, capacità fisica, quale situazione socio-economica, quella di chi risponde, se si abita in città o fuori in campagna. Proprio perché tutte queste cose ci influenzano. Alcune cose sono facili da misurare, come per esempio il sesso o l'età. Altre sono difficili da vedere o da raccogliere. Però se vogliamo pianificare una società che è una società per tutti, allora dobbiamo cercare di avvicinarci alla raccolta di tutti questi dati, per esempio attraverso sondaggi. Una cosa che hanno scoperto in questo progetto che riguarda il trasporto è per esempio non solo quanto spesso passa l'autobus, chi lo prende, dove si ferma, eccetera. Abbiamo analizzato anche la sicurezza, la sensazione di sicurezza e abbiamo visto che metà di quelli che utilizzano gli autobus o i trasporti pubblici sono stati soggetti a non violenze sessuali, però avvicinamenti collegati alla relazione tra persone che però va oltre a quello che è accettabile. E questo succede spesso per chi usa per esempio la metropolitana oppure nel tragitto tra casa e stazione. E quando abbiamo suddiviso questa statistica, questi dati, abbiamo anche visto che le donne hanno cambiato e cambiano il loro modo di trasportarsi o di viaggiare a causa di questa paura che hanno. E quindi lì possiamo vedere come cercare di adattare il trasporto pubblico alla situazione, in questo caso, delle donne. Quindi la mappatura di questo progetto mostra che le donne in generale utilizzano molto più spesso il trasporto pubblico e lo utilizzano per per esempio andare a fare la spesa, per andare a prendere i figli a scuola, mentre gli uomini utilizzano la macchina molto più spesso e questa differenza non si vede se non abbiamo dati disaggregati per genere. Quindi dobbiamo, per cercare di includere tutte le persone che ci sono nella società, dobbiamo cercare di migliorare il nostro modo di vedere i problemi. Dobbiamo andare più in dettaglio, dobbiamo trovare la differenza. Quando guardiamo le sfide e le vediamo, le rendiamo reali. Dobbiamo cercare di aumentare la nostra capacità di rappresentare le persone nella nostra società che non hanno una voce, non hanno la loro voce, non hanno una capacità di esprimersi e quindi dobbiamo veramente cercare di mostrare che siamo interessati a tutti e come funzionari per lo Stato noi dobbiamo lavorare per una società che è uguale per tutti. Ed è difficile farlo se non abbiamo dati che ci mostrano dove ci sono le disparità. E questo era quello che pensavo di raccontare. Grazie. Grazie, Osa. Grazie davvero molto. Volevo, se rimane un attimo, vediamo anche se ci sono domande, però volevo semplicemente riportare la cosa che mi è piaciuto molto del sondaggio iniziale di quando hai detto che i ragazzi erano parte anche della costruzione delle domande perché proprio cercando di mettere insieme le informazioni e le indicazioni su che cos'è la statistica di genere e tutto, si parla moltissimo poi degli indicatori di genere e di come le domande devono essere formulate nel corretto modo perché altrimenti si disperano le informazioni raccolte. Ed è questa anche un po' la mia domanda. Io non so se tra i partecipanti c'è qualcuno che voglia magari dire qualcosa, raccontare l'esperienza, fare una domanda, però mi sembra che forse in Italia ci sia una raccolta di dati ma che non sia così strutturata al fine poi di sviluppare delle politiche o forse non in tutti i settori, non sempre. Forse perché a volte manca la volontà dei decisori, non ci si coordina bene nella raccolta dei dati. Non lo so, questa è un po' una domanda a provocazione che lascio magari anche a voi. Vedo anche che c'è la dottoressa Vezzani che ha la mano alzata. Se osa puoi rimanere con noi magari un attimino fino alle tre, vediamo se ci sono domande o riflessioni anche per te. Grazie. Dottoressa Vezzani. Io volevo fare così una riflessione sul fatto che per esempio l'anno scorso io ho partecipato a qualche incontro sul piano urbanistico globale e ho notato che per esempio noi hanno chiesto ma come andate da scuola, da casa in ospedale, al lavoro eccetera. Dicevano che quasi tutti, giustamente come avete sottolineato voi, gli uomini utilizzano più la macchina, probabilmente anche da noi è così. Però io dicevo ma siamo sicuri che le donne fanno solo quel pezzo lì? Perché in realtà noi facciamo tanti giri perché andiamo a fare la spesa, andiamo a prendere i figli a scuola, poi andiamo a portare le cose in lavanderia. Cioè voglio dire fare un'indagine solo su quel pezzo lì ci taglia fuori da tanti aspetti invece che a noi interessano. Per esempio a me era nata l'idea che si potesse fare un accordo tra l'ospedale e che so le lavanderie vicino all'ospedale, i meccanici vicino all'ospedale che potessero venire a prenderci la roba in ospedale, ce la lavavano e ce la riportavano in modo che questo ci riduce un... cioè ricaviamo un po' di tempo per noi. Cioè secondo me tener presente davvero la vita delle donne e certi aspetti tipici non vengono mai presi in considerazione e quindi è difficile poi trovare delle soluzioni. Questo era solo per dire insomma che capisco molto bene quanto sia importante fare un'analisi di genere nella vita quotidiana anche. Grazie no ma siete invitati a dire le vostre anche solo un commento, una domanda, fatevi... Grazie. 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 grazie quindi era quello che forse un problema non è la mancanza di dati ma un po' più la volontà di andare alla ricerca di dei dati che poi ci fotografano la realtà suddivisa per generi forse non so se vorrete aggiungere qualcos'altro Osa? sono d'accordo col fatto per esempio riguarda i dati che influenzano il trattamento per esempio in ospedale spesso si fanno i test per trovare valori standard e si fanno questi test sui giovani che fanno il militare e sono spesso maschi e per esempio le analisi che vengono fatti sono quelli della tiroide il livello della tiroide di un maschio di 20 anni è molto diverso rispetto a una donna di 40 e quindi la donna ha valori che sono molto diversi e spesso questi valori non vengono presi in considerazione proprio perché vengono fatte delle analisi solo su un certo gruppo di persone e adesso che si è più aperti verso questo tipo di analisi e verso visto che noi cerchiamo di avere una parità nella società si lavora molto di più con questi dati però mancano ancora tantissime cose ci sono ancora tantissime differenze tante sfide quindi sì sono d'accordo ci sono tante tante sfide dappertutto purtroppo va bene volete qualche altra riflessione oppure ringraziamo Osa grazie Osa grazie moltissimo rimaniamo sempre in Svezia mi immagino che tutti abbiate intuito il riferimento svedese e sì perché noi siamo una rete ma è anche perché è inevitabile dire che quando si parla di uguaglianza nessun paese ha ancora raggiunto l'uguaglianza ma sicuramente la Svezia si è avvicinata molto negli anni quindi lavora molto in questo senso e quindi ci faceva piacere sentire avere questo confronto tra le due realtà italiane e svedese quindi a questo punto io chiamerei Lena Lena Ecca Lena viene dal comune di Luleo a nord della Svezia è venuta Lena è responsabile sviluppo e docente senior nella scuola nell'obbligo ed è quindi del settore scuola anche lei ci vuole fare un po' una panoramica di come stanno lavorando e come lavorano sulla raccolta dei dati nello specifico settore credo della scuola quindi a te la parola Lena yes it's okay to start sharing posso iniziare a condividere yes please sì prego bene spero che si veda lo schermo vedete il powerpoint vero allora inizio mi chiamo Lena Ecca e sono coordinatore per lo sviluppo nel comune di Luleo e cercherò di spiegarvi come lavora il comune lavora con la parità di genere e come lo facciamo a scuola abbiamo sentito Ossa e ha dato dei buoni esempi e sono cose che vediamo anche nel lavoro del comune è qualcosa che c'è in tutte le attività proprio il fatto di avere la diciamo l'immagine o la prospettiva della parità nel nostro lavoro bene allora vi racconterò un po' del lavoro del comune e poi del lavoro che facciamo all'interno della scuola dell'obbligo e cercherò di spiegarvelo in modo più chiaro possibile allora il comune di Luleo ha una strategia per come dobbiamo lavorare con la parità di genere ed è un requisito che viene dal comune e cioè il fatto di lavorare con la parità di genere c'è un obiettivo nazionale che chiede che dice che la donna deve avere lo stesso potere di plasmare la società e la propria vita e naturalmente questo richiede gli stessi diritti le stesse possibilità e le stesse gli stessi obblighi e il comune cerca di far sì che sia maschi che femmine e uomini e donne possono avere lo stesso servizio usufruire del suo servizio e che l'influenza e che il potere delle persone sia uguale per tutti e che ovviamente le risorse siano disponibili per tutti e il comune vuole anche far sì che tutti nel comune sappiano che il comune lavora per le pari opportunità e ovviamente il comune vuole essere anche un datore di lavoro dove c'è parità di genere il comune di Luleo ha una visione la visione Luleo 2040 e da questo ha nove aree principali e si tratta di parità di genere e uguaglianza e quindi si cerca di creare i prerequisiti necessari per che ci possa essere la parità di genere e questo si fa cercando di essere cercare di vedere quindi quali sono le aree sulle quali bisogna concentrarsi e quindi quali sono le sfide alcune sfide collegate proprio alla parità di genere è la differenza che c'è nei prerequisiti socio-economici che sono evidenti per esempio creando disuguaglianze nella crescita dei ragazzi oppure per esempio la mancanza di parità nel utilizzo del congetto parentale eccetera quindi il comune di Luleo segue un certo tipo di lavoro e con questi nove obiettivi sono collegati anche diversi indicatori e questi indicatori vengono ovviamente analizzati a seconda della differenza di età genere e area geografica e questi indicatori vengono aggiornati diverse volte all'anno e sono disponibili sul sito del comune e a novembre viene fatta una relazione di sintesi che riguarda proprio tutte queste aree e i vari comitati cioè il comune è composto da diversi comitati amministrativi e questi comitati hanno diversi obiettivi che devono essere collegati a questi obiettivi generali per esempio l'ente che si occupa dell'istruzione ha diversi tipi di obiettivi collegati all'obiettivo principale parità di genere per esempio il fatto che sia maschi che femmine possono avere la stessa possibilità di accedere alle superiori perché hanno i voti sufficienti per entrare questo è solo un esempio e quindi abbiamo diciamo diversi comitati che avendo diversi obiettivi lavorano tutti però verso lo stesso obiettivo poi abbiamo diversi indicatori che sono collegati al che sono suddivisi per genere e qui come indicatori abbiamo per esempio quello del reddito netto medio delle donne come percentuale sul reddito netto medio degli uomini oppure la percentuale di persone tra 16 e 84 anni che si considerano in salute oppure il numero di persone il numero di giorni di malattia oppure il numero di ragazzi nell'ottava classe e nel secondo anno delle superiori che pensano di avere una voce in capitolo nelle decisioni del comune oppure il numero di giovani che pensano che ci sia tanto da fare nel tempo libero oppure il numero di ragazzi che per esempio si muovono in modo da essere affannati almeno tra volta la settimana almeno un'ora eccetera eccetera sono tutti questi indicatori ma dove possiamo trovare tutti questi dati che il comune raccoglie beh ci sono ci sono per esempio le fonti di dati nazionali come il lente per la statistica lente per l'istruzione nazionale oppure si fanno anche sondaggi propri quindi diciamo che i comuni e le scuole hanno molti dati a disposizione per lavorare con la parità il comune ogni comune deve ogni anno creare una mappatura degli stipendi e questo secondo alla legge sulla discriminazione questa indagine fornisce un quadro delle retribuzioni attuali nelle diverse professioni e analizza anche le differenze retributive tra uomini e donne nei lavori che sono uguali e equivalenti una volta fatta questa analisi allora si elabora un piano di azione e questo piano di azione ovviamente viene utilizzato per cercare di colmare le lacune di disparità questo è un po' un'immagine molto veloce molto breve anche del lavoro del comune se invece passiamo alla scuola la scuola che effettivamente è il mio settore allora abbiamo delle leggi che dobbiamo seguire abbiamo il curriculum scolastico suddiviso per le diverse i diversi gruppi diciamo di età dei ragazzi e la parità di genere è uno dei valori fondamentali sia nella legge che nel curriculum scolastico quindi tutto il personale deve lavorare considerando i valori democratici e essendo consapevoli delle norme bisogna quindi discutere per esempio le gli stereotipi che ci sono bisogna limitare le norme che limitano la possibilità dei ragazzi di sviluppare i loro interessi eccetera e bisogna sempre discutere nella formazione nella scuola primaria per esempio i concetti di potere giustizia ruolo di genere sessualità parità di genere e uguaglianza quindi tutto questo c'è nei nostri documenti poi abbiamo l'ispezione scolastica che è un mente che controlla la qualità da un punto di vista di parità di genere cioè fanno sì che cioè controllano che tutti i maschi e femmine abbiano la stessa possibilità e le stesse condizioni per quanto riguarda la formazione la scelta degli indirizzi di studio e lo sviluppo personale e se questo istituto o ente vede che ci sono delle lacune o delle mancanze allora si crea un piano d'azione e l'ispezione scolastica questo ente ha cinque obiettivi parziali per il lavoro di parità di genere nella scuola quindi questi sono diminuire la differenza tra maschi e femmine nella scelta del indirizzo di studio e del lavoro rafforzare il lavoro con i valori fondamentali della scuola aumentare i risultati delle conoscenze dei ragazzi diminuire la diciamo il il manessere che c'è a scuola tra i ragazzi e per quanto riguarda i dati nel comune di Luleo che riguarda quanto riescono a raggiungere gli obiettivi delle conoscenze e beh come facciamo noi lavoriamo per esempio con dei test nazionali tipo le imbalzi che vengono fatti in alcune classi abbiamo per esempio degli obiettivi che devono essere raggiunti nella classe terza abbiamo voti che vengono dati diciamo dalla sesta classe quindi dalla prima media in su abbiamo a parte il questi test nazionali che vengono fatti in terza sesta e nona classe si fa anche una valutazione tra il voto che viene dato del lavoro che viene fatto a scuola dello studente o dell'alunno e il risultato che viene ottenuto nei test nazionali oltre a questi vari dati che vengono raccolti abbiamo anche un sondaggio sempre dell'ispezione scolastica che viene fatto ogni due anni nelle scuole e partecipano sia alunni che il personale e abbiamo anche un sondaggio che viene fatto sulla salute dei alunni e questo sondaggio è sempre dell'ispezione scolastica ma poi anche le scuole singolarmente fanno i loro sondaggi poi si controlla anche o si raccoglie dati riguardo all'assenza e ovviamente si si crea un programma di sostegno o di misure specifiche per i vari gruppi che ne hanno bisogno quando analizziamo per esempio quanto i ragazzi riescono a raggiungere gli obiettivi quando facciamo questa analisi utilizziamo i dati che vengono dati dalle varie scuole nel comune e dai dati nazionali e per vedere queste analisi allora dobbiamo anche prendere in considerazione altri fattori per cercare di capire i risultati per esempio il risultato si vede se è un maschio o una femmina si considera anche fattori socio-economici per esempio la formazione dei genitori poi utilizziamo che la statistica per esempio se i ragazzi sono appena arrivati quindi i nuovi arrivati vengono considerati tutti i ragazzi che hanno vissuto in Svezia meno di quattro anni poi vediamo anche se ci sono genitori nati in Svezia oppure in altro paese oppure l'alunno è nato in Svezia in un altro paese quindi i vari fattori vengono considerati anche quando viene fatta la suddivisione del sostegno economico alle scuole perché alcune scuole in alcuni a seconda dei vari indicatori diciamo hanno bisogno di più sostegno economico per gestire i vari ragazzi poi abbiamo anche risorse statistiche che vengono creati a livello nazionale e questi dati vengono raccolti che tutti i dati che vengono raccolti dai vari comuni vengono ovviamente uniti e vengono uniti non soltanto i dati delle scuole comunali ma anche le scuole cosiddette libere cioè che possono essere scuole non gestite direttamente dai comuni e noi abbiamo quindi grazie all'ente di statistica tutti questi dati raccolti in un unico posto il che è molto molto comodo e poi abbiamo anche salsa che viene chiamato così è un valore che viene elaborato a seconda delle prestazioni della scuola però questo valore viene in questo valore viene considerato anche per esempio il fattore di formazione dei genitori oppure il numero di nuovi arrivati il numero di maschi eccetera quindi tutti questi fattori vengono inclusi quando si fanno queste analisi e questi dati ovviamente vengono dall'ente per l'istruzione poi abbiamo un'altra risorsa per la statistica è una risorsa che utilizzo spesso io ed è allora tutti i comuni in Svezia sono uniti in un ente per i comuni e le regioni questo ente ha un database comune e in questo database possiamo fare dei paragoni dei confronti per vedere per esempio quanto siamo efficienti in un in un certo settore per esempio nella scuola o nel servizio degli anziani eccetera praticamente ci sono dei dati chiave che possono essere utilizzati per paragonarsi ad altri comuni se io per esempio voglio vedere nella scuola quanti alunni hanno avuto la sufficienza nel in tutte le materie e alla fine della delle medie allora io posso entrare dentro e posso vedere per esempio quali sono i comuni che hanno i valori migliori oppure peggiori eccetera in questo modo qua posso avere un po' una visione generale della situazione in Svezia poi qua sulla sinistra abbiamo i livelli dei voti tra femmine maschi a livello comunale e nazionale e l'immagine in mezzo vedete quella riga nera verticale quella mostra dove si trova l'Ileo e questo mostra che noi non apparteniamo siamo al 25% che è tra i migliori diciamo ma siamo sotto al 25% dei comuni migliori e ovviamente questi dati però ci danno anche informazioni su come noi riusciamo a cioè i risultati che noi riusciamo ad ottenere a seconda dei nostri fattori cioè di che come è la situazione nelle nostre scuole perché non ci possiamo paragonare a quelli che per esempio hanno una situazione completamente diversa e quindi nell'immagine in basso viene mostrato per esempio quanti ragazzi hanno avuto la sufficienza in tutte le materie o in alcune parti delle materie eccetera ma per cosa viene utilizzata allora questa statistica di genere disaggregata di genere allora beh l'abbiamo utilizzato per capire che una grande parte delle femmine si sentono stressate riguardo al lavoro scolastico molto di più rispetto ai maschi e che per esempio i maschi hanno un voto medio più basso rispetto al voto che hanno nelle prove nazionali mentre le femmine hanno i voti di solito più alti rispetto al voto che hanno nelle prove nazionali e per esempio il fatto che le femmine spesso hanno voti più alti e quindi riescono ad entrare alle superiori perché le superiori in Svezia ci entri solo se hai un voto minimo e quindi tutte queste cose qua le possiamo trovare nei dati se sono disaggregati per genere e quando vediamo questi dati cosa facciamo? Beh noi ovviamente parliamo con i dirigenti noi parliamo con i dirigenti perché possono essere consapevoli dei risultati di altre scuole non solo dei propri risultati e ovviamente questo perché possano capire a seconda della società della situazione socio-economica per esempio della zona o di altri fattori il dirigente può capire perché si trova ad un certo punto a un certo livello grazie a questi dati per esempio abbiamo attivato dei corsi di formazione di aumento delle competenze per esempio per cercare di di aiutarli quando devono dare un voto a uno studente o valutare uno studente un alunno abbiamo anche per esempio aiutiamo anche per esempio nella formazione per la parità oppure per cercare di capire se ci sono dei ragazzi che vengono trattati male da altri eccetera eccetera abbiamo anche lavorato con l'informazione agli alunni per quanto riguarda cosa scegliere nella scuola superiore e questo non solo nell'ultimo anno delle medie ma diamo queste informazioni già prima per esempio quali sono gli indirizzi che ci sono alle superiori e dopo quando hai fatto questo hai seguito questo corso alle superiori o questo indirizzo alle superiori che tipo di lavoro puoi fare quali sono tutte le possibilità immaginabili possibili di una di una professione dopo quindi questo è un questo è un modo per mostrare agli alunni che tutti hanno le stesse possibilità in 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 lavori diversi per tutti hanno le stesse possibilità e poi dopo abbiamo ovviamente lavorato anche nel cercare di migliorare l'ambiente scolastico da un punto di vista fisico sociale pedagogico e abbiamo anche aumentato la consapevolezza tra il personale e tra i giovani e i genitori della necessità del del sonno che c'è la necessità di dormire dell'attività fisica eccetera del mangiare il pranzo a scuola e spesso per fortuna abbiamo anche altri enti e organizzazioni che ci aiutano nel lavoro il fatto per esempio dell'uguaglianza che c'è come un un coperchio che copre tutto noi ovviamente vogliamo sempre imparare di più e quello che abbiamo fatto l'ultimo anno è che abbiamo siamo stati accreditati all'interno dell'Erasmus più in modo da poter rendere possibile per il personale imparare anche attraverso contatti internazionali perché ci sono state alcune scuole che sono bravissime nel partecipare a progetti di scambio eccetera ma chi non ci riesce tanto beh lì andiamo dentro e aiutiamo anche quelle scuole lì e poi abbiamo anche partecipato un progetto K2 con diversi altri partner tra l'altro un partner italiano e in questo progetto che si chiama Wellbeing in School quindi benessere a scuola e abbiamo ovviamente tantissimi scambi con questi altri partner eccetera beh questo è quello che facciamo noi per cercare di raggiungere questo obiettivo di parità di genere e questo è tutto grazie questa è stata la mia presentazione Lena grazie moltissimo grazie sono state spunti molto interessanti io parto facendo il mio commento personale poi lascio naturalmente anche per stimolare eventualmente altre mi è piaciuto moltissimo sentire partendo da come ci sia un accesso anche un facile accesso ai dati a livello di altri comuni a livello nazionale mi piacerebbe sentire un confronto non so se c'è qualcuno che è del settore educazione anche qui da noi però mi piace molto questo fatto che si riesca facilmente tutto è a disposizione tutto è reperibile e questo è molto interessante un altro aspetto mi è piaciuto molto questo del sostegno economico sulla base appunto del livello raggiunto dalla scuola ma anche magari della tipologia di famiglie la maggioranza delle famiglie che sono il livello socio-economico delle famiglie nella scuola viene dato un sostegno economico quindi mi è piaciuto il fatto che si la raccolta di dati anche qui non per forza per genere ma dati che ci fanno il quadro della situazione effettivamente ci permette poi di adottare delle politiche specifiche invece sulla questione delle uomo-donna mi è piaciuto molto le prestazioni differenziate durante i test dei ragazzi quindi risultati differenti magari per quanto possano andare bene magari le ragazze durante l'anno molto bene risultati buone prestazioni il livello di ansia è molto interessante magari vedere che le ragazze hanno un più facilmente si stressano e quindi magari trovare delle soluzioni per fare dei test che non causino così tanta agitazione insomma mi viene da pensare a molte cose su cui si può riflettere dopo quindi è stato davvero molto interessante e molto esaustivo anche vedere dal comune alle scuole tutti gli step che vengono fatti quindi grazie molto non so se volete fare dei commenti o qualcuno di voi esperto ne vuole aggiungere qualcosa allora Ginevra volevo sì sì Nicoletta perfettamente ti sento ah ok adesso mi vedo e vi parlo sì sì no no volevo semplicemente dire io che sono stata in un comune ho avuto anche la parte di come assessorato per quanto riguarda l'educazione posso dire che purtroppo da noi tutto questo non c'è sarebbe molto molto bello riuscire a inserirlo perché sono tutti dati che magari vengono anche raccolti ma in maniera molto così disaggregata cioè non non finalizzata questo intendo non finalizzata a un miglioramento anche della situazione di pari opportunità all'interno delle scuole all'interno del comune e quant'altro siamo molto indietro su questo e quindi la ringrazio molto per questi spunti perché magari possono essere utili anche per cercare di sviluppare dei progetti in questo senso insomma spingendo anche le amministrazioni a riuscire a raccogliere questi dati in maniera un po' più consistente effettiva per esempio i tavoli di confronto a cui faceva riferimento prima la dottoressa Vezzani anche quelli erano molto importanti e purtroppo non hanno secondo me raccolto dati sufficienti a fare un'analisi che secondo me è molto importante per quanto riguarda il tessuto urbano questa è una cosa che molto spesso viene tralasciata posso capire che nelle città vecchie come le nostre sia difficile cambiare la struttura dei trasporti dei servizi e quant'altro però si possono cercare se non altro delle situazioni che come diceva anche Antonella vadano insomma incontro alle esigenze soprattutto delle donne quindi grazie molte mi sentite sì sì posso aggiungere sul fatto per esempio della pianificazione urbana noi abbiamo statistica che viene ordinata diciamo e noi possiamo vedere le varie aree residenziali possiamo vedere qual è l'età di chi abita in quella zona quanti sono i ragazzi che vanno a scuola ancora qual è la situazione socio-economica e questo è qualcosa e questi dati vengono utilizzati per esempio per pianificare che tipo di abitazioni costruire per cercare di creare un mix dove è necessario quindi questi dati veramente sono incredibili per pianificare cose grandi ma anche cose più piccole e il la regione o l'ente amministrativo diciamo regionale ha ancora più bisogno di questi dati per pianificare sì è vero questi dati sono facilmente accessibili e tutti possono raggiungerli tutti possono accedere a questi dati questo sì è un vantaggio altre domande osa osa hai una domanda per lena osa giusto un'aggiunta noi come paese usiamo spesso la statistica cioè nel senso che noi raccogliamo tantissimi dati ci piace siamo anche pochi siamo solo 10 milioni voi siete tanti di più però forse potremmo aiutarci a vicenda perché c'è un ricercatore che si chiama Fredrik Zimmerman che ha fatto ricerca sui maschi a scuola e lui forse potrebbe condividere questi dati che ha perché i maschi in generale che siano qua o là sono spesso simili però è vero c'è un vantaggio nel fatto che abbiamo tanta statistica a disposizione sì hai ragione eccolo qua Fredrik Zimmerman sono i suoi libri e tutti i dirigenti lavorano con questi libri e creiamo per esempio attività per cercare di sostenere i ragazzi il lavoro dei ragazzi e adesso lavoriamo per esempio con la lettura la lettura tra i maschi per aiutarli quindi questo è soltanto un piccolo piccolo consiglio utilizzate questi libri queste ricerche posso intervenire io volevo solamente dire che mi ha stupito molto ma piacevolmente il fatto che si parta dalla scuola e questo dimostra bene come i due modelli di società siano completamente diversi e come la scuola entri come parte preponderante positiva nel senso che diceva prima vediamo quanti bambini ci sono quante maschile di quante scuole abbiamo bisogno quindi per progettare poi aree urbanistiche e un progetto molto più grande il nostro modello credo che sia lontano anni luce da questa cosa perché anche a noi piacciono molto le statistiche lavorando in comune abbiamo dati disaggregati e li raccogliamo a centinaia però poi sono fermi lì per cui questa molle di dati che noi possiamo anche ma in tanti settori io vedo i tributi piuttosto che nel personale lavorativo vedere quali sono le esigenze come può essere organizzato il benessere organizzativo però si ferma lì quindi non c'è una visione in prospettiva futura di ampliare questa cosa per far sì che poi comunque la società migliori e la differenza di genere anziché essere vista come una mancanza qualcosa che ti lascia indietro possa essere invece vista come una ricchezza per far sì che tutti beneficino di questo e mi ha stupito questa cosa che insomma l'obiettivo nazionale è la parità di genere sarebbe bellissimo sempre un pezzettino anche da norma mi dico uno dei pezzettini ma anche solo una codina di un obiettivo nazionale potrebbe essere una cosa costruttiva secondo me ecco per cui grazie di queste belle testimonianze perché secondo me è la dimostrazione che è possibile ma che ci vuole una sinergia all'intento cioè non deve essere come dicevamo lo scorso incontro tra di noi cioè che ce la raccontiamo tra donne che sono interessate a questa cosa ma che nella visione di insieme nella cosa più grande non si riesce poi a arrivare a niente cioè quantomeno trovare una un qualcosa che ci possa comunque non tanto come donne ma quanto come società effettiva che ci possa aiutare a migliorare su questa cosa quindi grazie avete dato speranza che è possibile questo è vero concordo e sottoscrivo quanto detto precedentemente centralità della scuola e la società come obiettivo lascio la parola penso Antonella non so se Ossa poi voleva tornare a dire qualcosa ho sbagliato l'ordine comunque lascio Antonella io volevo soltanto dire che secondo me è molto importante che non sia visto come un problema solo delle donne cioè è molto importante che si capisca che il genere è vantaggioso anche per gli uomini tenere presente il genere dappertutto così come nella medicina ma anche nell'attività pubbliche nel sociale purtroppo molto spesso la medicina di genere viene scambiata per una medicina delle donne ma non deve essere così che era solo un commento il mio grazie vedo ancora una mano alzata Osa e poi Patrizia o no Patrizia ha abbassato quindi Osa avevo scordato di abbassare ok giusto due cose quando noi cerchiamo di lavorare con queste sfide complesse sì abbiamo tanta statistica ma cerchiamo anche di pensare cosa possiamo fare per rendere più difficile non fare niente cioè come volete che noi raccontiamo che la cosa è migliorata cioè quando noi facciamo qualcosa che migliora una situazione e allora abbiamo dei primi dati che mostrano la situazione precedente e poi abbiamo i dati che mostrano come è cambiata la situazione e questi bisogna usarli perché quando c'è la statistica allora bisogna usare i dati ed è vero quello che è stato detto che anche gli uomini possono guadagnare quando c'è la parità spesso le difficoltà sono molto grandi tra gli uomini proprio perché loro non hanno il sostegno che serve per esempio quando sono giovani per la salute mentale tanti ragazzi non hanno lo stesso sostegno delle femmine quindi è importante questa statistica anche per i maschi lena grazie ossa lena io ho capo molto grande con io sono pochino mi collego anche io al fatto che i maschi possono trarre vantaggio specialmente se pensiamo ai risultati scolastici dove abbiamo visto che le femmine di solito hanno i risultati migliori nel senso che le femmine mostrano le loro conoscenze e questo non è solo da noi ma da per tutto e il fatto che noi abbiamo visto queste ricerche che ci sono le abbiamo lette abbiamo capito anche che cosa dobbiamo fare nel senso che cos'è che limita il maschio nella scuola è la cultura della scuola cioè il fatto di che è ok mostrare che hai delle conoscenze per esempio loro riescono a mostrare le loro conoscenze molto bene nelle prove nazionali cioè nelle invalsi ma poi durante le lezioni non riescono a mostrare che hanno le conoscenze quindi forse c'è ancora questa cultura tra maschi del fatto di no non bisogna mostrare che si è interessati a studiare non bisogna mostrare che sono bravo invece noi donne sì noi vogliamo mostrarlo ed è ok farlo quindi noi cerchiamo anche di lavorare su questo livello qua che è ok per i maschi far vedere che sanno le cose quindi bisogna anche cercare di capire il perché i maschi non ce la fanno e questo lo capiamo grazie agli studi che vengono fatti e per esempio ultimamente grazie a queste statistiche che abbiamo e queste ricerche che sono state fatte sul diciamo sul comportamento dei maschi a scuola ci hanno dato ci ha dato quello che serve per vedere a livello comunale e nazionale cosa poter fare per dare sostegno per esempio l'ente scolastico può darci sostegno in diversi modi adesso che sappiamo che ci sono queste problematiche e perché ci sono molto interessante davvero questo è anche dello stimolare è un esempio del fatto che lo studio è anche parità in questo caso per favorire i maschi che magari hanno questa cosa della prestazione differente scolastica e rischiano di poi emergere meno a scuola questo è un esempio di parità in cui va a vantaggio dei maschi quindi è molto molto interessante non so se avete altri commenti o altre se no io veramente ringrazio moltissimo ossa Elena davvero ci avete dato degli spunti stimolanti di avere le vostre presentazioni se possibile mandatemile anche così come sono io poi le traduco con google delle spunti stimolanti quindi ci fa piacere circolare insomma darci altro altre idee mettere in circolazione le vostre idee grazie grazie mille ciao mi sembra di far sapere anche che ci sarà molto interessante lascerei la parola secondo che ci fosse un momento per parlare di medicina di gente innanzitutto Lara io ti ringrazio credo che se le nostre relatrici osa e Elena sono sono anche loro uscite forse da adesso in avanti parliamo in italiano però ti ringrazio moltissimo speriamo di non averci fatto tutti i casi troppo per i nostri ritmi grazie grazie non facile noi italiani poi parliamo talmente svelti che alla fine ma io giusto per parlare di medicina di genere proprio ho preparato qualche diapositiva per farvi vedere qualcosa ma insomma direi che bene hanno illustrato le nostre le nostre colleghe svedesi come insomma sia importante tenere presente il genere e così è anche in medicina cioè non considerare solo l'aspetto biologico ma anche gli aspetti ambientali sociali e culturali quando si parla di differenze tra gli uomini e le donne e la medicina di genere nasce non è tanto vecchia perché nasce nel 1991 con questa Bernard che fa questo editoriale sul New England che è una rivista prestigiosa americana dove per spiegare che cos'è cioè perché le donne non venivano trattate come gli uomini nell'infarto del miocardio parla del libro Jentor che poi Barbara Stresan ha fatto anche un film in pratica l'eroina di questo libro cosa fa cerca di come vuole studiare la Torah ma nella Torah potevano entrare nelle scuole ebraiche potevano entrare soltanto gli uomini lei si traveste da uomo per poter entrare in queste scuole quindi la Bernard Dine Hilley dice ma noi riconosciamo l'infarto nelle donne solo quando si presenta con i sintomi che hanno gli uomini e quindi questo fatto nascere tutta una letteratura molto importante che dimostra che le donne hanno sintomi di infarto che sono molto diversi alle volte da quelli degli uomini e quindi viene sottovalutato spesso nelle donne l'infarto del miocardio ma non solo ci sono sintomi diversi anche i fattori di rischio sono diversi perché oltre ad avere quelli che hanno gli uomini come fattori di rischio tradizionali tutti ormai lo sappiamo l'obesità la pressione alta il diabete della dislipidemia le donne devono fare i conti anche con le complicanze legate all'infarto con la menopausa con la terapia ormonale con i tumori del seno quindi la terapia del tumore al seno che può aumentare il rischio cardiovascolare quindi tutti questi fattori di rischio che cambiano un po' la nostra il nostro rischio cardiovascolare in pratica le donne si ammalano dieci anni più tardi hanno più complicanze e la mortalità è più alta se hanno un infarto con un'età inferiore ai 60 anni quindi l'importanza di avere i dati disaggregati per genere ha fatto sì che arrivassimo a capire che la malattia coronarica classica che noi conosciamo cioè l'arteria dove si deposita dove si trova questa placca che piano piano chiude il vaso in pratica nelle donne non è così perché nelle donne ci sono oltre a questi aspetti diciamo caratteristici come gli uomini ci possono essere delle malattie coronariche atipiche cioè vasospasmo cioè vasi molto piccoli distali che vengono colpiti dalla malattia e quindi nelle donne purtroppo la terapia non è così efficace in questo particolare diciamo gruppo di donne la terapia non è così efficace come lo è per gli uomini quindi l'angioplastica può essere inefficace e questo è un dato sicuramente molto importante che cambia il modo di vedere la malattia coronarica nelle donne rispetto agli uomini se questo diciamo è stato il punto di partenza per capire la medicina di genere un esempio diciamo sul versante opposto è stato il covid noi siamo abituati a considerare le diciamo le influenze sono sempre state studiate o comunque riportate nella letteratura o colpivano i bambini o colpivano gli anziani per esempio la diciamo le prime malattie influenzali degli anni dei primi del novecento colpivano soprattutto i bambini la spagnola colpì soprattutto i bambini non sappiamo niente invece se colpiva più i maschi o le femmine perché la letteratura non lo riporta e quando abbiamo cominciato ad avere il covid si è parlato subito di mortalità di come venivano colpiti i soggetti ma si è parlato soprattutto del fatto che venivano colpiti gli anziani più dei giovani a differenza appunto della spagnola e soltanto dopo i primi mesi il sito global health 5050 ha raccolto da tutte le nazioni i dati disaggregati per genere e questo che cosa ha mostrato ha mostrato che pur essendo le donne forse più colpite rispetto ai maschi quindi più avevano più test positivi rispetto ai maschi in realtà gli uomini si ammanavano con una gravità maggiore guardate si arrivava addirittura di fronte a 10 donne in terapia intensiva c'erano 18 uomini e su 10 donne morte 13 uomini morti quindi insomma direi una sostanziale differenza sulle cause qua le cause sono sia legate ad aspetti biologici perché le donne hanno sicuramente una risposta immunitaria più forte rispetto agli uomini ma ci sono anche aspetti legati al genere cioè al comportamento le donne sono abituate a proteggersi di più dal punto di vista igienico per esempio si lavano molto più spesso le mani hanno indossato la mascherina in maniera molto più ossessiva rispetto agli uomini quindi in questo senso il genere ha influenzato moltissimo anche il contrarre la malattia o meno ma diciamo che il covid è stato la pandemia è stata così violenta che ha ridotto l'aspettativa di vita ma lo ha ridotto per tutti ma soprattutto per gli uomini gli uomini addirittura si è ridotta l'aspettativa di vita di un anno e mezzo per le donne soltanto di un anno la buona notizia che a due anni di distanza dalla pandemia l'aspettativa di vita è ritornata a crescere abbiamo detto quindi l'aspetto del genere è importante perché perché i comportamenti individuali possono cambiare la nostra aspettativa di vita e sappiamo che gli uomini hanno dei si sottopongono a comportamenti si sottopongono di più rispetto alle donne a comportamenti a rischio per la salute il tabacco l'abbiamo sentito anche prima l'obesità l'alcol le infezioni proprio perché sono meno attenti nella cura della persona e quindi tutto questo fa sì che gli uomini siano più a rischio di morte rispetto alle donne quindi giorni di vita persi per le morti evitabili ogni anno guardate gli uomini perdono in media 24 giorni di vita per cause evitabili mentre le donne soltanto 13,9 quindi questo indica sicuramente un comportamento estremamente diverso quindi quanto è importante il genere una caratteristica guardate gli incidenti stradali l'80% dei morti per incidenti stradali sono gli uomini a dimostrazione di quanto sia importante il comportamento individuale e quindi lavorare su questi fattori per ridurre per esempio la mortalità negli uomini si fa ancora troppo poco vi faccio vedere solo come ultima cosa un piccolo studio che abbiamo fatto qui a Parma ormai qualche anno fa abbiamo voluto guardare come i nostri il nostro personale sanitario era migliorava sottoponendolo ai corsi di BLS e come si sentivano loro sicuri nell'affrontare il massaggio cardiaco e quindi la rianimazione cardiopolmonare quindi siamo andati a vedere prima e dopo i corsi come cambiava sia la loro capacità di fare diciamo così di praticare la rianimazione cardiopolmonare sia la loro diciamo così self-efficacy cioè quanto loro si sentivano sicuri nel farlo e sicuramente dopo i corsi migliorava molto la loro capacità sia di praticare la rianimazione sia anche la loro sicurezza in una scala da 1 a 10 passato dove 10 è il massimo e 1 è 0 è ovviamente il minimo da un 4,8% da un 4,8% di punteggio arrivavano a 7,13 quindi miglioravano decisamente in maniera significativa ma poi abbiamo voluto guardare se c'era una differenza tra gli uomini e le donne e questa differenza è venuta fuori soprattutto nella self-efficacy cioè gli uomini sia prima che dopo poi lo vedremo dopo comunque si sentivano più sicuri rispetto alle donne quindi più capaci si sentivano diciamo anche prima del corso e le donne soprattutto mostravano una difficoltà a praticare il massaggio cardiaco sapete che praticare il massaggio cardiaco richiede una certa forza quindi è evidente che le donne non riuscivano a raggiungere quella capacità di compressione che invece avevano gli uomini quindi e questo si è mantenuto anche dopo nonostante il corso le donne restavano comunque sempre meno sicure nel fare la reanimazione cardiopulmonare questi sono sia medici che infermieri se poi correliamo con l'età quindi abbiamo tenuto conto sia del sesso che dell'età mentre per gli uomini giovani o anziani non c'era differenza erano soprattutto le donne più in là con gli anni ad avere difficoltà a praticare il massaggio cardiaco e a sentirsi anche poco sicure nel farlo questo è importante perché perché se noi consideriamo che le nostre le nostre equip anche in ospedale sono fatte sia da uomini che da donne se da fare un massaggio cardiaco sapere che che una donna magari ha più difficoltà si lascerà agli uomini fare un massaggio cardiaco mentre le donne magari faranno qualcos'altro quindi questo diciamo ci dà un'idea di come sia importante tener conto del sesso del genere anche negli operatori sanitari e questo vi lascio con questa immagine perché è importante che quando si parla di medicina di genere le persone conoscano che cos'è la medicina di genere e questo è quello che abbiamo cercato di fare producendo delle vignette che spiegavano in maniera semplice la medicina di genere che sono state poi portate anche sugli autobus e mandate un po' in giro per la città bene io mi fermo qui spero di non avervi annoiato eccoci grazie assolutamente grazie molte insomma è stato interessante anche qui vedere come i dati i dati qui addirittura salvano la vita quindi insomma è più di questo salvano la vita raccogliere i dati e raccoglierli bene quindi davvero più che tutto sembra la priorità eppure la medicina di genere è qualcosa di molto recente quindi esattamente abbiamo strada da fare ci sono dei commenti delle domande so che poi la dottoressa deve lasciarci alle 4 se avete qualche domanda adesso se no potete anche andare su liberi commenti idee esatto liberamente oppure insomma è stata stancante la traduzione l'interpretariato e abbiamo è tutto il resto non ci sono particolari commenti allora io spero non so anche poi dopo lascio la parola a Valvano però spero che insomma vedo che sicuramente è un gruppo che ha partecipato anche già all'altro incontro sicuramente anche oggi mi piace che sia un gruppo di persone soprattutto perché che ha preso parola per chi si è espresso motivato interessato appassionato questo tema credo che insomma abbiamo bisogno di tante piccole gocce nel mare per portare avanti appunto l'uguaglianza e questi concetti spero che vi sia stato di interesse sia stato stimolante per produrre riflessioni che poco a poco possiamo far circolare vedo qui spunti di miglioramento commenti di Sonia grazie che posso dirvi è che sicuramente vi farò avere le slide forse Elisa vedo che ha acceso la camera voleva dire qualcosa se no no non volevo intimorire per quello vi farò vedere le slide vi farò così non è solo il tempo di tradurle rapidamente forse non saranno perfette però insomma la traduzione di Google funziona sempre bene Barbara non so se vuoi aggiungere qualcosa se no io vi do appuntamento al prossimo al prossimo incontro che spero voi e anche tanti altri possiate partecipare perché un altro elemento abbiamo lavorato in questo incontro voleva avere come come obiettivo quello un po' di dare l'idea di quanto sono importanti i dati dopo dati volevamo ragionare sulla progettazione che può essere progettazione per un progetto finanziato ma può essere progettazione per qualsiasi settore ormai si lavora per progetti in qualunque settore anche quando sono cose comunali regionali non sono per forza fondi di progetti Erasmus piuttosto che altro però noi dobbiamo iniziare a pensare anche a inserire la prospettiva di genere in ogni fase del progetto favorire la partecipazione di piccoli aspetti la comunicazione quindi vedremo la prossima volta come tenere in considerazione tante cose che possono essere fatti in ogni contesto non per forza quando si richiedono un milione e mezzo di euro ma anche nella nostra piccola quotidiana quindi vi ringrazio molto e Barbara se vuoi io semplicemente mi insomma mi aggrego a quanto detto finora gli interventi sono stati tutti molto interessanti ci hanno dato degli spunti anche perché è da un po' che effettivamente nei vari formulari questi dati disaggregati per genere vengono richiesti e questo incontro mi ha permesso di capire quanto questa cosa non sia un appesantimento una richiesta in più che i vari enti fanno per concedere dei finanziamenti ma sia effettivamente molto importante per elaborare delle azioni che siano il più possibili utili ed efficaci per tutta la società per tutti i beneficiari non soltanto per le donne come abbiamo detto più volte quindi avere qualche esempio concreto è effettivamente più utile a volte di leggere tanti manuali o tanta teoria su alcune cose di questo siamo siamo molto contenti e appunto nel prossimo incontro poi proseguiremo con l'applicazione del appunto della prospettiva di genere in tutte le fasi del progetto quindi costituisce un altro tassello di questo percorso che ci auguriamo ci porta alla fine alla creare una rete di collaborazione tra comuni e ci porti anche a individuare anche dei progetti concreti sui quali lavorare grazie a tutti